Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 26 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo Scorpione. Nervosi in azienda, felici nel tempo libero. Assioma banalissimo, di riposo o nel tempo libero più o meno tutti tirano fuori il lato migliore, basta sentirsi senza vincoli e senza orarine coercizioni per mandare a dormire la parte più spinosa di se stessi e tirar fuori quella simpatica. Oggi non fate eccezione nemmeno voi, anche se non brillate per la chiacchiera e l'humour, il cinema, il teatro o una bella conferenza. Amate gustarveli in silenzio e lo stesso vale per un bel libro o il vinile appena acquistato, saranno la vostra riserva di relax per affrontare una nuova battaglia professionale, magari già domattina. Tediato chi è in azienda, la combina autunno più super lavoro vi rende malinconici e a tratti insofferenti, sobbillati dal raggio rosso di Marte e da quello elettrico di urano scattate per uno nulla e non c'è verso di farvi ragionare, quando vi si tocca sui principi il pungiglione sulla punta della coda si attiva subito e se il malcapitato non se la dà subito a gambe. Zack. Qualcosa di vecchio sta per terminare lasciando il posto a qualcosa di nuovo e di rompente. Donna giovane, chiara di capelli, molto riservate e a tratti timida. C'è un passaggio obbligato da fare che permetterà al nuovo di nascere, compreso un amore da truncare o un rapporto da chiudere. Il nuovo sta per affacciarsi nella vita del consultante single, solo che occorre prendere una serie di decisioni importanti e indispensabili. La vostra gelosia potrebbe oggi allontanare la persona a cui tenete molto, non esagerate e soprattutto non fate scenate. Cercate di chiarire subito, o appena possibile, una situazione che vi sta a cuore, con il tempo potrebbe consolidarsi infatti una rottura e difficilmente verreste a capo della cosa risolvendola. La luna ispira molto tomanticismo ai nati di lunedi e giovedi, venere potrebbe regalarvi un capolavoro di giornata, dal punto di vista sentimentale. Molte occasioni sprecate per gli altri. In amore se ancora non hai trovato la persona adatta a te, la serata si presenta favorevole per l'inizio di un nuovo e valido rapporto. Sappiate decidere con prudenza sull'amore, un errore commesso oggi sarebbe fatale. Meglio per voi oggi se parlate poco e ascoltate tanto. Oggi siete particolarmente pungenti o potreste esserlo facendovi, in questo modo, un sacco di nemici. Poche certezze, ma buone, sono meglio di tanti sogni che rincorsi spesso recano solo danno. Siate concreti e realistici oggi, non ve ne pentirete. Oggi potreste subire la vendetta che una persona medita da tempo, in fondo un po' di male, ammettetelo, glielo avete fatto e quindi, anche se non giustificabile, la sua sarà una mossa. Liberatrice per voi. Buon per voi che oggi Mercurio non interferisce nelle vostre cose in modo negativo, certi rapporti troppo tesi fino ad oggi potrebbero avvalersi di una fase distensiva e cercare un approccio nuovo per rinsaldarsi. Sorridenti e pieni di vita, affrontate anche le eventuali difficoltà con prontezza di spirito e senso dell'umorismo. Saturno, Venere, Plutone e Marte, tra gli altri pianeti, lavorano per la vostra affermazione personale e per alcuni di voi, specie se nati in novembre, preparano straordinarie e inaspettate rivincite, in ogni campo. Non vedete l'ora di ritemprarvi in questo giorno di settembre, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 27 del mese di ottobre. Potete recuperare efficacemente le energie con attività dolci come lo yoga e il nuoto. Finalmente una giornata giusta per voi, che equilibra mirabilmente l'energia bollente di Marte abbracciato alla luna cancerina con quella gelida e concreta di Saturno in pesci. Se il cuore sente freddo l'idealismo lo riscalda ed è proprio sui principi, i valori fondamentali, che educate i vostri figli alla bellezza, alla giustizia, alla verità, ai comportamenti corretti, in linea con l'essenza uomo. Amore ed eros. Amore bruciante, il fascino straniero fa sempre presa su di voi, alla ricerca di emozioni forti. Poche parole, sono i fatti quelli che contano, perciò se non parlate la lingua dell'amato bene non è un problema. Chi vuole colmare il suo cuore si dia da fare e salti sul treno delle buone occasioni. Venere in congiunzione nel vostro segno contribuisce a schiarirvi l'orizzonte affettivo e il cielo si presenta finalmente particolarmente sereno. Sia che siate in coppia o single, avrete la possibilità di godere oggi di incontri ad alto potenziale erotico. Perché il vostro pianeta d'elezione, Plutone, vi favorisce dal segno del Capricorno e se siete nati in novembre, rende la vita amorosa particolarmente in intensa. Lavoro e denaro? In viaggio per affari, per partecipare a un meeting o per firmare trattative importanti. Anche la trasferta vi fa buon gioco, la vostra disponibilità non passa inosservata ai piani alti e se l'obiettivo è migliorare la vostra postazione tentando la scalata al successo. Complimenti, ci state riuscendo, e anche a buon passo. Urano nel segno del toro, contrario, vi toglie un po' d'intuito nel capire i colleghi e i superiori. Fermatevi un attimo quest'oggi per riflettere e riuscirete a recuperare una visione d'insieme più aderente alla realtà in ufficio. Benessere. Il vostro magnetismo si avverte anche a distanza, siete una calamita che attrae a sé persone e situazioni positive, stando bene fate star bene anche chi vi circonda. Sbagliato se il mondo vi crede infelici solo perché siete spaiati. Vantate un buon giro di relazioni socio-professionali e una nutritissima schiera di amici, sia a due passi da casa che in giro per il mondo. Non è internet a fare la differenza, piuttosto la vostra capacità di fare colpo e lasciare un segno, anche se voi non li cercate, gli altri tornano come api sul miele. Denaro. Se siete nati in ottobre vi organizzate per trovare soluzioni redditizie a convenienti. Un ottimo Saturno in pesci vi aiuta nel sistemare una somma che siete riusciti a risparmiare di recente. Per lei, mugugni e rancori non giovano alla bellezza della pelle né alla luminosità dello sguardo, prima di depurare fegato e reni, pensate a depurarvi dai pensieri negativi. Per lui, altro che contare le pecorelle, stanotte conterete l'ammontare dei vostri debiti, ecco la ragione della vostra insonnia, che si somma allo stress e ai dispiaceri di cuore. Impressione generale, sembra che la stanza vi crolli in testa. Colore delle emozioni, ciclamino. Barometro dell'umore, ventoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 8, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.